Mediterranean Editors and Translators è un'associazione di professionisti delle lingue che lavorano soprattutto con la lingua inglese e facilitano la comunicazione in inglese nei paesi del Mediterraneo e anche in altri paesi. L'associazione ha come soci traduttori, interpreti, revisori, cioè editors. Oggi abbiamo organizzato una giornata di workshop seminari per lo sviluppo professionale dei soci. È molto diffusa l'idea che la creatività serve esclusivamente per la traduzione letteraria e non per la traduzione tecnico-commerciale. Però dimentichiamo che commercio significa anche vendere. Vendere significa promuovere. Promuovere significa pubblicità. E nessuno negherebbe che serve la creatività per fare la pubblicità. Infatti la Transcreation è, diciamo, creatività con uno scopo perché quello che funziona, quello che vende, diciamo, in una certa lingua non è detto che funzioni in un'altra lingua. La Transcreation consiste nel cogliere il messaggio, l'essenza del messaggio e nel renderla in un'altra lingua in modo che conservi, diciamo, l'impatto emotivo e che mantenga uno stile adeguato e un tono giusto.